Oggi presentiamo un caso di una neoplasia retroperitoneale che per le sue caratteristiche di presentazione e per il coinvolgimento che questi tipi di tumori presentano e manifestano nei confronti degli organi vicini ha rappresentato una vera sfida per la chirurgia cosiddetta tradizionale. Si tratta di un uomo di 58 anni il quale è giunto alla mia osservazione perché in questo periodo del lockdown stando lui a casa si è accorto di essere aumentato di peso, quindi si è rivolto a un suo medico il quale effettivamente è stato bravo palpando l'addome, ha sentito una grossa massa a caratteri non perfettamente definiti gli ha chiesto di fare un'indagine, l'indagine di primo livello è sempre l'ecografia addominale la quale ecografia dopo che il paziente ha messo in evidenza la presenza di una massa enorme a carico dell'addome della misura circa di 30 cm che occupava l'emi addome destro e quasi completamente i tre quarti anche dell'addome sinistro. Alla TC con mezzo di contrasto eseguita è stata messa in evidenza anche un tumore a carico del rene sinistro. Quindi poiché l'aneoplasia comprimeva e spostava totalmente il rene di destra con compressione e spostamento dell'uretere di destra in presenza di un'anoplasia del rene sinistro si poneva il problema tecnico di asportare la massa, salvare assolutamente il rene destro perché il rene sinistro si sarebbe dovuto sicuramente per le caratteristiche di rappresentazione del tumore renale procedere anche all'asportazione del rene e quindi eseguire anche oltre all'asportazione della massa anche un'aneferctomia. La problematica complessa di questo caso quindi la possiamo tradurre in tre elementi uno, una grossa massa dell'addome, due, una compromissione con spostamento e infiltrazione dell'apparato urinario di destra una adesione con infiltrazione della vena cava inferiore e purtroppo un tumore a carico del rene sinistro. La problematica quindi doveva essere incentrata sull'asportazione della massa, salvagotaggio del rene di destra e l'asportazione del rene di sinistra. La complessità tecnica dell'infiltrazione dei vasi, l'adesione all'uretere voi considerate che l'uretere destro passava nel contesto stesso della massa tanto che per poter salvare il rene destro che così come abbiamo detto costitui uno degli elementi principali di questo intervento chirurgico si è potuto realizzare solo quando isolata tutta la massa lo aperta per poter isolare completamente l'uretere che gli decorreva all'interno. Ecco bene questa è una procedura che può essere realizzata a mio modo di vedere solo con una tecnica open con la chirurgia fatta in maniera tradizionale guidata da una esperienza ed una particolare capacità di assistenza dell'equipe chirurgica che partecipa a questo intervento. Questo è il controllo post-operatorio in cui si fa vedere come l'uretere destro ed il rene che è stato salvato è tornato ad essere un uretere pressoché normale rispetto a quest'altro che invece era completamente questo era pre-operatorio completamente depiazzato. Ecco dopo l'asportazione del rene sinistro e di tutta la massa l'uretere è tornato ad essere pressoché normale. La realizzazione di un intervento chirurgico come questo con intento di radicalità re zero può essere fatta se l'equipe chirurgica e con questo intendo non solamente i medici che collaborano all'atto operatorio ma lo stesso staff di sala operatoria, l'anestesista, le nurse hanno tutti una particolare predilezione per questo tipo di chirurgia. Ed inoltre è un tipo di chirurgia che può essere fatto solamente in strutture di alto livello poiché voi potete ben considerare che una delle complicanze maggiori di questo tipo di intervento è rappresentata dall'emorragia intraoperatoria. Ebbene, se non siamo in presenza di una struttura tecnica di supporto capace di sostenere urgenze immediate come questo, bene, questo tipo di chirurgia non può essere realizzato. Villa Margherita presenta tutte queste caratteristiche ed inoltre è una struttura con la quale si può collaborare per procedure di altissimo livello compresa un reparto di terapia intensiva che costituisce alla fine dell'intervento di questo tipo di chirurgia una delle procedure necessarie per l'osservazione e il monitoraggio continuo di questi pazienti nelle prime 24 ore. Proprio perché questa chirurgia di alta complessità come questa può essere realizzata solo se esistono queste strutture di supporto come Villa Margherita consente. Grazie. 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 Grazie.